Buonasera 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 Come va? Come va? Come va? Come va? Buonasera Padillac, buonasera Mazzino, buonasera Picci, buonasera Fitti, buonasera Templare, ma allora ragazzi ma quanto siete belli, tra gli harder del minuto 1, belli di casa, grazie mille per il big supporto a tutti i giorni. Ciao Maxediello, buonasera, oggi è una giornata che hitta in maniera diversa, perché oggi ci sono successe tante cose, no non le hanno ancora appate Snappoman, buonasera Mauro, buonas tardes, dovrei cominciare a riprendere un po' il mio spagnolo per questa estate, buonasera Turi. No ragazzi, purtroppo non le hanno ancora appate, io comunque, io non ho parole per questo regà, non le appiano più, buonasera Fitti, buonasera, no regà dopo base l'ho comprato. Ho visto, ho visto, ho visto Michi che ha dopo sta nei, nei, nei favorites di, dei, nei popular di, di coso qua, di Footbin, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi vivrà vedrà. Buonasera D'Adora, buonasera, Rombo di Loffa, buonasera Pugliano. Oggi 22 in macroeconomia, let's go! Buonasera Graziano, buonasera Geppa, aspettiamo solo gli app. Beh, 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 io sapete cosa sto aspettando in realtà, lo sapete? Team 2 venerdì. Ho finito lo stile intesa a mani del santo, io ci metto a Socrates motore, sì, motore. Tra l'altro, oggi pomeriggio, ho fatto coaching con Domenico, e lui c'ha tutta la squadra con gli stili intesa a base. Penso, 9 undicesimi con stile intesa a base. Io non gli ho detto niente, perché figurati. Alla fine del coaching gli ho detto, ti rendi conto che siamo giocati tutto il tempo con base? Ah, perché ce ne siamo proprio accorti. Comando finalizzatore? Sì, due li ho visto. Comandare in palestra? Dai, bene, mi fanno un po' male le spalle, però tutto a po'. L'importante è iniziare, l'importante è farlo, poi i risultati arriveranno. Poi io non è che devo dire, a me non piace un corpo ultra mega muscoloso. Mi serve solo per muovermi un po'. Forse stasera vado anche a giocare a calcetto, tra l'altro, quindi... Ma soprattutto, ragazzi, la cosa più importante è la giornata di oggi. Non so se l'avete visto, è uscito il trailer gameplay del nuovo Dragon Ball. A te no male, ma lo sai, Snappo, che io non sono mai stato... Non ho mai avuto necessità di togliermi la maglietta per conquistare una signorina. Io ho tutto faccia e capoccia. Buonasera, Simone, buonasera. In palestra non hanno accettato l'abbonamento col Prime. Io non ce l'ho il Prime, lo sai? Cioè, su questo account qua non ce l'ho. Già non ci sto più dentro con la webcam, no, in realtà ho fatto la webcam più piccolina. Buonasera. Apo poiapo. Adesso devo andarci io anche dopo anni nell'attività. È vero me lo devo andare a vedere. GTA 6 Dragon Ball FC 25. Tra l'altro, voi vi rendete conto di quando questi poveri coglioni, quanto coglioni sono, quando il 20 marzo, il 20 marzo, grazie per la sub, mi fanno un post del genere. Ma che cazzo mi rappresenta? Grazie mille, Mauro, per il livello 1. Ben eppure tornato. Anzi, benvenuto. Bello de casa. Grazie mille. Punto Scantivo Gruppi. Ciao, paperino. Vi rendete conto di quanto EA stia lavorando bene sotto il punto di vista dei leak? Perché il 20 marzo, Donk, mi pubblica un post su FC 25 dove dice completamente... L'intelligenza artificiale è stata completamente rivalutata. L'intelligenza dei giocatori... Ah, è stata... Sono più intelligenti. I giocatori si adattano meglio con il flusso di gioco. L'intelligenza artificiale del Pro Club è stata massivamente migliorata. I giocatori si ricordano gli eventi passati. Che hanno inserito... I giocatori sa dire se gli fai un fallo se lo portano per tutta la partita. Making better tactical adjustments. Non sanno più che di questi. Non sanno più che pubblica. Gli app, eh, ragazzi, eh, boh. Io me li aspettavo oggi alla... All'una. Infatti ho scritto a Max stamattina, perché io stavo in palestra. Ho scritto a Max che erano le... Alle 13 e poi alle 14 sono andato a controllare. Stavo in palestra dalla web app a controllare. Si avevano appato le card. Bonpastor si appa. Se non mi sbaglio, Bonpastor... Gioca stasera? No. No, non mi pare. Non lo so fatto open. Andaci sta. Buonasera, Date. Buonasera. Allora, secondo me non li hanno ancora fatti, raga. Perché ci stanno... Ci sono state le competizioni nazionali. La E-Ligan e la Serie A. E la I-Serie A. Volevo giocarmi playoff con la Rolfo. Buonasera, col Miss Wax. Un TD con un milione al posto della Scott. Sblocca di quadrato. Lo posso appellare a Rolfo, secondo me dovrebbe giocare. Sempre Cicci, raga. Sta Rolfo deve giocare a Cicci. Deve fare la centrocampista centrale. Tra l'altro io vi dico che questa squadra gira da paura. Questa squadra gira da paura. Sono ritornato in divisione 2. Vincendo praticamente tutte le parti che ho giocato. 38 partite. Ne ho persa una stamattina. Una ieri sera. E una... Ho perso tre partite su 38. Quello che deve appare sta in ferie. Ho descato i moduli, snappo. Sono sempre gli stessi. Ora mi fermo. Come vedete ho anche il per due, quindi non vi dico bugie. Sì, credo proprio di sì, Armagnalf. Max ha scolato pure Blank. Madonna quel barco era troppo forte. Se hanno fonti interne sicuramente il prodotto sarà già... Uh, ma io credo che il prodotto sia in alfa e in beta già dall'anno scorso. Io credo che come pubblicano il gioco nuovo... Cioè come pubblicano FC24 si mettono a lavorare per FC25. E io probabilmente cominciò a testare il gioco a settimana e la dai testa i part. No, 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 no. Sì, 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 Leon, ogni tanto qualcosa sì. Sono arrivato a 25 tra ieri e oggi spero di arrivare nell'hit ma sarà dura. Allora, io ti devo dire la verità. Mo' mi sono scalato ste quattro divisioni ho incontrato, penso, su 38 partite, quattro partite dove ho tryhardato. Una è stata contro un ragazzo mio abbonato che fa... Con cui abbiamo fatto il coaching. Una, un mio follower stamattina che poi mi ha anche scritto, mi ha detto di giro tra... Guarda, ha scritto, si chiama Alessio. Mi ha scritto è stato un piacere incontrarti, me ne sono accorto nel secondo tempo che le due ho tryhardato malissimo. Però, nessuna cosa tossica. Non ci sono tryhard... Cioè, esatto, non ci sono tryhard ad esagerare. Devi stare concentrato, però se giochi concentrato vinci, regà. Varello, Marchisio, Marchisio. Anderzano, doppio 82, non male. Tu hai a dopo, gli altri no. E una quando ti beccherò io. Ah, grazie, quella è la partita più facile di tutte quante. 5-0, arrivederci. Santi ha inviato un'immagine. Beh, non male. 20-82 questo? Non facciamo nomi. Oh, boxer... 3 boxer Calvin Klein 25 euro. Invece di 30. Non li comprerò. Non mi servono le mutande. Oggi uno mi ha scritto se il comprensione, il mio dopo diceva che non voleva più trovarlo contro. Che poi alla fine ridendo e scherzando sono poche le persone che sono sbloccate, eh. Ciao Power Games, buonasera Dani. Buonasera, buonasera. A zero la vedo molto dura. Nah, non te faccio segnare. Puoi entrare nei gruppi abbonati, Mauro. Se digiti in chat, punto escamativo gruppi. Mi puoi ovviamente contattare in privato sempre su Telegram. Non hai la pubblicità in chat. C'hai tutta una serie di vantaggi anche per i gruppi, nei gruppi sub. Simpatico Bellerini del pass. Max stamattina mi ha scritto. Max, che lui l'ha preso già, ma infatti magari mo' ce lo testiamo pure. Max mi scrive... Ma quanto è grosso Bellerini in game? Che nonostante abbia 70 di forza, secondo me... Gli hanno cambiato il body type. Sì, Granborn. Foto del tallone? Non ho capito. So che adesso mi è parso più forte di Gullit Birday. No, no. Ma sono due giocatori diversi. Perché non hai evoluto Akanji? Non ho evoluto Akanji perché... Akanji è già forte. Mentre... Bastoni... Nonostante fosse forte, comunque... Se gli serviva, secondo me, un boost in più. Ma ce lo proviamo stasera, questo Bellerini. Tanto credo... Cioè, ce lo peghiamo tutti, quindi comunque lo possiamo... Lo possiamo utilizzare tutti. Ci sta a fare open dal posto della Hansen? No. Mi sa che ti è scaduta proprio adesso, Fede. Io l'evoluto Akanji ma ho trovato anche Blank. Eh, lo sai che probabilmente quel Blank è più forte di sto Akanji? Con i baffi e il mullè domineremo il mondo. E più forte quella Evo di Varane diventano male. Eh, lo so, l'abbiamo anche consigliata quella Evo di Varane. Sì, diciamo che quel Varane evoluto non è affatto male. Sono assolutamente d'accordo. Io devo un attimo valutare, perché secondo me qua... Io non farò nessuno di queste. Beh, non mi ricordo. Qual era quella là del... Era Toppo Piede Debole, eh? O era Magia Anniversario? Era Toppo Piede Debole. Lo sguardo della storia Insta mi ha sedotto. Bravo, Maurito. Un bappin nuovo fu... Allora, ragazzi. Parliamo un attimo di questa cosa. Perché sennò impazziamo. Un attimo solo. Perché io, con il bene che voglio a queste persone, ovvero nessuno, spero che gli venga veramente una cacarella istantanea a questi, perché io non ce la posso fare. Perché questo è un problema gigantesco che creano questi rincoglioni di qua. Poi magari è vero, eh, però... Allora, il bro che cosa scrive? Il bro, lo sceriffo di Ultimate Team. E spero che... Mentre si metta la pistola nella... Nella... Nella fondina, gli parte un colpo e... E si spara sul piede. Su Red Dead Redemption 2, ovviamente. Scrive... Non c'è un bappé nel Team of the Week di questa sera. Il che significa solo una cosa. Non ho una doppia conferma, ma sembra che molto probabilmente sarà... Bird Day. Lo sappiamo? No. È molto probabile? No. Arriverà comunque? Non lo so. Voi che dite? Gli creano un nuovo cap. Ho a Kanji 91 e l'ho provato in coppia. Molto più forte va a run. Infatti ora lui ridolare con Yashin. Non ci sta. Minchia come vuole il mio PC. Ale... Te posso da' una... Te posso da' una notizia. Ale... Ma vuoi sapere una roba? Ma vuoi sapere una roba? Ale, mi senti? Mi credi che non l'ho ancora aperta dalla scatola? Da quando mi è arrivata settimana... Mi è arrivata il quindio... Cinque giorni fa mi è arrivata. Non ho manco aperto... Non ho manco aperto questo. Non l'ho manco vista. Non c'ho avuto il tempo. Quindi il mio PC a questo momento è ancora uguale a quello della settimana scorsa. Morgano Benze, ma... Ma sai che ti dico Benze, ma... Per comprare un bappé così servono tre account di giù. No, John... John Valai... Quanto costa? 10? Ho betato 15? Ragazzi, cappato. E questo stiamo a dirosso. Provo perché probabilmente... Arriva... Arriva a Boer Day dove è venerdì. È una spoilerata di giocatori della prossima prova. Davvero non lo concepisco. Quanto è vero? Perché si guadagnano, Simu. L'utente medio di Ultimate Team adesso vive nel futuro. Oggi esce Harit. Vuole già sapere domani com'è Grimaldo. Domani esce Grimaldo. Vuole già sapere la SBC di venerdì com'è. Esce la SBC del venerdì. Vuole già sapere quello che succede sabato. Esce la promo venerdì. Vuole già sapere la promo successiva qual è. Harit è un giocatore molto interessante. Tortellino. Del Marsia. Marocchino. Che è già 5 skill. Quindi secondo me lo fanno 5-5. E potrebbe essere una card molto interessante. In ottica... Random. Comunque... AS. ES. AT. 5-3. Questo è un giocatore che ha parenti napoletani. Ho Lucio. La prima versione. Che gioca con Naganji. Pensa che se faccio Varane e voluto sia meglio di Lucio? Sì. Ho appena vinto una Rivals con tuo padre. Si chiamava Dio. No Dani secondo me sei so... No non si sono dimenticati secondo me per gli upgrade raga. Secondo me stanno aspettando il termine di alcune competizioni nazionali. Tipo la E Premier League. La E Serie A. La E Libertadores. La E Gitan Mort. E... Stanno aspettando stasera. Non ci credo un altro AS. 8 AS e una D. Il Pacco Plus non si sa ancora Peppe Brandi. Però le devo fare i miei complimenti. Perché lei è il primo a chiedere questa cosa. Spero che sarà anche l'ultimo. Questo lo usavo Potom di Bundes su FIFA 20. Ciao Peppe. Buonasera. Eh KT. Vediamo se ci sei. Se esce Mbappé quanto costerà? Ti ho già risposto. Per me sarà cappato a 15 milioni. Come sono le prime impressioni su Stonbappé? Ah. Saliba Evo. Non lo posso fare. Se non ho la Evo di Saliba 85. Eh sì è possibile. Si può essere la Champions Femminile pure appano tutte le live insieme. Ma non è possibile ragazzi. Ma basta. Era un 2082 tra l'altro. Basta questi culli. È uno dei partiti più forti del gioco. Il gioco è molto più forte di Check. Chi è? Chi è in chat? Aspetta che aveva scritto prima Elia. Rude è rude. Ero al telefono. Mi sono perso 10 minuti di live. Ho già chiesto quando c'erano le app delle carte. Si sono andato 12-13 volte. Mazzino. Io boh ragazzi. Io non... Io non so com'è possibile che qualcuno di voi abbia un culo tale da... Da... Da trovare gullit in un 2082. Guarda quante le tengo. Guarda. Sti coglioni. Ciao Domi. Buonasera. Conviene fare la Evo di Renato? No. Peppe. Più culo che smax. Io direi che... Direi che... Gullit... Va bene per due FIFA. Max. Porro lo prende il più uno. Mi pare di no. Tu hai trovato Pelé? Vabbè ma Pelé non conta un cazzo. Pelé è morto. Gullit è vivo. Allora aspetta ti dico quali sono gli upgrade che... Che vengono... Che vengono... Che vengono fatti... Che vengono fatti... Che vengono fatti tonight. Aspetta. Te lo dico subito. Allora tonight viene fatto... Mendy... Aspettate metto gli sperimentali. Allora viene fatto... Mendy da 92 a 93. Snyder da 92 a 93. Rolfo da 89 a 92. Werner da 91 a 92. Delict da 91 a 92. Bonpastrice da 91 a 92. Gundogan da 89 a 91. Orban da 89 a 91. Aspas da 89 a 91. Zuchrich per gli amici Giuseppe. Da 90 a 91. Chiesa da 90 a 91. Ture da 90 a 91. Mascherano da 90 a 91. Buongiorno da 89 a 90. Kelly da 89 a 90. Majry 89 a 90. Martens 89 a 90. Stanway 89 a 90. Mazzen 89 a 90. Candreva 89 a 90. Mamouche 89 a 90. Couto 88 a 89. Lesmelou 88 a 89. Ander Herrera 88 a 89. Smolare 88 a 89. André 86 a 88. È uscito il 46 sulla ruota di Genova? Un ATT da mettere vicino Socrates con 900k. Vai su un vai d'Ambappé. Ma com'è battanza bannato? Mi è pubblicato. Mi è pubblicato per ripetere dal terzo. Ah, buonasera, battanza. Prima di una strana sarà un account sbloccato con tutte le carte. Anche noi ce li abbiamo, gli account sbloccati con tutte le carte. Non perdono. Ce l'ho anche io sulla console, un account sbloccato con tutte le carte. Con ATT prenderà app? No. Sì, 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 Santi, avevo capito. Sì, Simone. Ce l'ho anche io l'account sbloccato con tutte le carte, raga. Ce l'ho sulla console. È un account di Lega. È l'account della serie A Bayek. E ha tutte le carte del database. Non ci posso, non posso loggare adesso, non perdona. Perché ovviamente lo posso usare solo quando sono in live sul canale della serie A. Però c'ho questo qua, l'account. Questo. No, no, Reggio, purtroppo non lo posso utilizzare. L'account di giorno potrebbe essere tranquillamente l'account sbloccato. Beh, sì. Anche quello di Max. Max si fa tutte le sbici del gioco alla fine. È vero che ci sarà un pack per chi ha il PS Plus? Sì. Eresie 4. Buonasera, barba gialla. A che ora è Yapp? Non lo posso usare perché non è... A parte che non si può giocare online. Cioè non potrei giocare Rivals in Weekend League perché ovviamente non si può fare. Però lo posso usare solamente nelle amichevoli, offline e poi solamente nei giorni in cui io sono sul canale della serie A. Non è un mio account personale, capi? Al fine ho deciso di fare come te, ho voluto bastoni. E ti devo dire la verità che non è affatto una scelta maligna. Questo bastoni molto forte. Veramente molto forte. Un pro show... Uno col pro show ne plus con 95 di difesa, ragazzi. È tanta roba. Tanta, tanta, tanta roba. Soprattutto 97 di reattività, 95 di freddezza. C'è anche un passaggio eccezionale con questi tre playstyle qui. Bra, 99 di difesa praticamente, sì. Ho Barcolà fatto con Dribbling Founder e Trequartista. Come io le metto nella Birday? E come ti diventa, Geppa? No, Galactic, no. Collins degli obiettivi è meglio di Van Dyke base. Ma... Sì? Ehm... No? Cioè... Provalo. Non è possibile che al 25esimo... I due giocatori hanno un terzo di stamina. Avevi l'attacco sul lato della palla con le freccette messo per sbaglio. Anche io lo stoppando, diversamente da chiunque mi stoppando. Anche la Clochelli ha 5 stelle skill. 5-3. Ehm... Potrebbe avere senso, però magari se non hai fretta di scadenze, aspetta venerdì che magari mettono nuove evoluzioni. Andremo diventa 90, sì. Ma allora, raga, ve lo giuro, non vedo l'ora. Ve lo giuro, raga, non vedo l'ora. Il problema... Mo... Chiedo aiuto a voi. Allora, è una squadra del genere... Che è perfetta, ok? Cioè... Tutto rende alla perfezione. Tutto... Nei posti giusti. Tutto funziona bene. Bilanciata. Ok. Come inserisco la Rolfo? Buonasera Mirko. Fuori Van der Sar. Eh, Gerola è forte quel sonno. Leverei a dopo per Fridolina. No, no, no. Aspetta. Fridolina va giocata a CC. No, del Link non me ne frega niente. Pure a 1-0 frega un cazzo. Sarà sempre peggio. Fuori Bruno! Raga, ma questi sono impazziti. Questo è un animale. Sì, Marco. Eh, io stavo pensando a fare esattamente così. No, Falcao da SBC. Sì, aspetta, vi metto... Vi voglio un attimo... Vi voglio un attimo fare... Vi voglio usare un attimo la sperimentale, aspetta. Cioè, è una copia. Allora, bastoni non lo tolgo perché... Non me lo so evoluto. L'idea era fare così. L'idea era questa. CC, Mauro. L'unica soluzione era questa... Eh, questa qui. Sì, Maurito, per me questa Fridolina sarà endgame. No, Jolly Game. Non riesce a togliere il barco là. Ma perché i ragazzi mi dite di togliere sto barco là? L'unica cosa che questo barco là dà fastidio è un po' il passaggio. Ma cosa ce ne devi fare con Quadrato? La Frido TD è ottima. Sarà sprecata ma è una spanna sopra tutti i commenti di vista della competizione scala. Ma io non la voglio usare TD. Io non ho bisogno di... A parte che Quadrato mi sta piacendo tanto. Non ho bisogno... Cioè, questa non... Questa io l'ho sbloccata per giocarla a centrocampo. Perché centrocampisti così, con questo playstyle qua, per me sono troppo forti. Barcolla è 5-5, raga. Tutta la vita, Dandy. Con l'app mettano la dinamica, non credo, Alfre. A dopo meglio del DC. Barcolla è troppo forte e spero che esca una Evo, eh. Non credo proprio. No, fa tanzo. Cappato in un tutorial per il dribbling. Ho provato e non mi ci trovo. Ritini se è importante da masterare. No, per me non è importante. Tu bari... Per dribbare devi utilizzare solo analogico sinistro. Certo che togliere Akanji, però se Bastoni ti piace di più, anche così va bene. Allora, perché scelgo di togliere Akanji rispetto a Bastoni? Per la nazionalità. Grazie mille, Baris Angermen. Grazie per la sabba. Grazie mille, Baris Angermen, per il Prime. Bentornato. Grazie per il quarto mese. Punto scaduto gruppi. Mi triggerano le carte senza dinamica. Eh, pure a me piacciono le carte con la dinamica. Una cosa che secondo me devono inserire è tipo la possibilità di metterle, di sceglierle all'interno della... Per esempio quando fai le evoluzioni. Non mi trovo senza un cdc puro. No, ma infatti è giustissimo. Ah, e poi scusatemi. Giocando così, perdonatemi. Eh, chi cazzo mi difende in sta squadra? Eh, che fai? Giochi Rolfo Centrale? Eh, non c'ha senso. Eh, è normale, è normale, Matt. Eh, pur giocando così c'è problemi. No, ragazzi, Barcola non si toglie. Bruno Centrale. Devo togliere Bruno e mettere un medianaccio che è Randella. Vabbè. Signori, mancano 30 secondi alle 19. Spammate un po' quella emote. Poi vedremo un attimo come sostituire il tutto qua. Bruno non se leva. Uè, Gras, buonasera. Perché, signori, tra 10 secondi, mentre le campane fuori suonano, arriva l'orario più bello delle nostre giornate. Perché, signori, stasera può uscire un 5-5 davvero interessante. Signori, anche stasera, come ogni giorno, è l'orario più bello delle nostre giornate. Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. E vediamo. Mamma, ieri, cosa ci ha droppato. Ma arriva! Facciamo sempre l'aggiornamento bronzo giornaliero. Perché altrimenti vi dimenticate. Mettiamo Stresbonsky qua. Ah, ah, sì, così, Stresbonsky. Ah, ah, si gode. E vediamo. Mamma, ieri, cosa ci ha droppato. Allora, si sono refreshati, ovviamente, i pick e tutto. Jugador. Allora, vediamo un po'. Allora, è uscito Harit. 5-5, alto normale. Può giocare solo a sinistra e centrale. 5-5, con 96 di dribbling, 94 controllo palla, poco tiro. 81 potenza tiro è pochissimo. 3 playstyle di passaggio. Tutti i playstyle di dribbling, tranne il microonde. La batteria, quindi questo può essere utilizzato anche come elettricista o elettrauto. Il passaggio buono, ma 81 di effetto è pochissimo. Oddio, me lo aspettavo un po' meglio, sto bro. È però una sfida... 83 con IF. Vabbè. 83 con IF, regà. Regalato. 1,80 m. 1,80 m. Ce lo famo tutti questo. Aggiornamenti. Vediamo che è stato messo qua. 20,82 di nuovo. 100 Ultimate Birthday. Contiene un pacchetto 100 giocatori, 40 oro, 35 argento e 25 bronzo. E cosa chiede? Ma voi state fuori di testa. Una doppia rosa 84 con IF. Ma è follia questo. Ma è uno scambio incredibile. Ma manco con i doppioni mo faccio. 13 giorni alla fine, tra l'altro. Quante volte si può fare? Una sola volta. Molto meglio il 20,82. Sì. Allora, icone. Non credo sia uscita roba. Vediamo se è uscita qualche Evolutions. No, qua. Tu ti farai scammare per bene con sabbia a fine. Molto bene. No, nada Evo. Nessuna Evo. Vediamo nel negozio perché ho visto che il bot ha spammato una roba simpatica. 100 giocatori, 83 più. Ma già c'era questo. C'è sempre stato. Sì, eh? Per farvi capire che io non sono uno che shoppa tanto. Pacchetti promo vediamo se hanno capito tanti, se hanno cambiato qualcosa. Guarda una quanta roba. Ma dov'è il pacco da 750k? Ah no, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Devo vedere un momento. Devo vedere un momento se ce lo stucchiamo entro... Porca troia. Se ce lo stucchiamo entro questo team o entro il secondo team. Non lo so ancora, lolotz. No, non si sono ancora upgradeati. Andiamo a vedere il TOTV. Team of the... Walk, 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 walk. Yes. Andiamoci a vedere il Team of the Week. Si è rifresciata pure l'Igon. Oh. Allora, abbiamo un Falcone. Vladimiro Falcone. Mi raccomando, signor Falcone. No, no, vabbè, stavo facendo una battuta triste e non la voglio fare. Sugawara. Questo è in onore di Padillac, questo giocatore. Railo. Cavallo, Railo a bere. 40 di agilità. Truffa, questo è per tutti quelli che fanno compravendita. 5-3 per Raoum. Attenzione, hanno messo Raoum con 5 skill. Bene. Di Bernardo, 4-3. Vitigna, 5-3. Attenzione, Vitigna del PSG. Ve lo ricordate questo Vitigna che era l'anno scorso era il Future Stars, che l'anno scorso ci fecero due palle grosse così. Ma no, hanno sbloccato Vitigna che costava 600.000 credit di sto coglione. Ve lo ricordate? No, non so se ho dimenticato il giocatore. Valverde. Oh, Valverde con tiro putente e ping pass. Valverdone, 90 di overhaul. Che bello sto Valverdone, peccato per il 3 skill. Musiala, 5-4. Ovviamente, lui è già 5-4. Ok. Zapata, 3-5. Zapata, 3-5 con 99 di elevazione, 99 precisione testa, 99 di forza, 97 potenza tiro, 93 di finalizzazione, 95, pallonetto e aereo plus. E poi c'è Lewangolski. 4-4. Vabbè, praticamente come il potome, praticamente, stiamo là, eh. E vediamo in panca. Du, 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 vabbò, Freddo, del Fenerbahce, Njuskjén, del Chelsea, Semmenjo, come si chiama questo? Hutchinson, fortissimo, Gio Keres, prossimo attaccante del Napoli con 97 di fisico. 97 di fisico. Calamita. Gio, Chieroz, e basta. Bene, 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 bene. Ok, anche questo Team of the Week diventa bello la settimana prossima. Beh, Stovidigna in realtà non è manco male, però tre piede debole, porca miseria. Stovidigna già ce lo vedo in un'evoluzione tra sei mesi. Molto bene, quando passi la palla per fare stop e tiro che tasti si usano? Solo analogico sinistro? No, mica mi metto a ridere, guarda che è una domanda più che lecita. Solo analogico sinistro? Sì, Big Boss, punto di scambio bento ancora. Lo provarai Harit? Certo che lo provo Harit. No, non si sono ancora appati i Fanta. Allora, Max, mi dica lei quando Potemos che a Imos è il test di Harit. Magari, se poi c'è qualcuno di voi, anzi no, aspetta, aspetta, mi vado a fare un attimo il vi vado a fare un attimo quel picco 85. Va bene, vado, di l'Akwai. Eh no, ma immaginavo, Max, una Rosa 83 l'avrei fatto, penso a Instant. Per fare lo stop dove devo orientare l'analogico sinistro? Nella direzione in cui vuoi andare. Sui giocatori c'è un aggiornamento primaverile. Che significa sui giocatori c'è un aggiornamento primaverile? Sulle SBC SBC è uscito dieci giorni fa questo, Edoa. Non lo so, ragazzi, perché non le hanno ancora appate e non si sa quando le fanno gli upgrade. Allora, fatemi fare un attimo questo, questa rosa qua del picco 85 perché voglio trovare Gullit. Voglio trovare Gullit dal picco 85. Questa è una rosa 84, ma sì, Marta, vola Marta, vola, vola Marta. Settimana scorsa già sono volato in SBC, esatto. Non ti preoccupare, Edoardo, vada tranquillo. Vada tranquillo. Tranquillo, è talmente facile che lo potrebbe fare chiunque. Allora, se ci metto un Colomani, no, non va bene. Ma ci metto un altro 85 qua, stronzi. Ah, non va bene lo stesso? E se ci metto un 86, ma se io, scusami, invece di metterci un 86 ci vado a mettere un... Vedete a che punto stiamo col mio club. Ci vado a mettere un coglione 84 e non ce l'ho. Ma sai che te dico? Ma io ci vado a mettere proprio sto Ziyech, perché tanto sto Ziyech ce lo ritrova 78 mila volte, ma che me frega. Il pick è da fare sul Tardi. Mmm... Mmm... Mo ve lo apro il... Mo ve lo apro il 183. Ragazzi, ce l'ha... Ce l'ha invitati... Ce l'ha invitato Padillac. Ce l'ha invitato Padillac che c'ha il 183, anzi se... No, che è il 183? Che era? Il 100 giocatori. Se mai mi cambi pure il titolo della live. Test Harit più pack da 100 giocatori. Pick 85. Eh, me sa che prendo l'if qua. Eh, me sa che prendo l'ifettino, eh. lo faccio io, lo faccio io Padillac. Loggati lo stesso però, perché porca troia, ogni giorno me lo stai a di... Arit più pack da 100. Allora, l'if è sempre l'if, no, ma infatti. È il 180 che sta nel negozio. Allora, l'ifettino ce lo siamo presi. Let's e pure go. Negozio che c'ho? Ah, quel pacchetto di merda dove mi tropperà pele e base. Di nuovo. Ah no, il doppio 81 a più. Dove voi ci trovate le icon qua dentro da sti giocatori. Ho visto la review ma non ho una bunda e stavendo di bala rimango con lui e lo sblocco a penna. Lascia di bala, lascia di bala. Ah, ma ragazzi, ma voi non so se avete notato questa maglietta qua. Io non so quando sia stata inserita sta maglia. Ma questa maglia si illumina. Questa maglia si illumina. Io infatti me la compro. come si illumina? Queste linee gialle che vedete qua sotto queste si illuminano. Sono fluorescenti. Guardate, vi faccio vedere. Sta nel menu principale che primamente stavo a preparare la live stavo accendendo le luci. Do sta? Guarda! 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 i migliori 45k spesi da inizio gioco. Cosa ha messo la EA su Instagram? Ma dove? che cosa? EA Sports Foot? ma che ha messo ma che ha messo ma che ha messo EA? del media workroom del media workroom del datacenter di March Madness? Vi interessa, signori? La password del wifi della pazzia di marzo? Perché, signori, la password è Jordan Pushed Off oppure Xfinity Wi-Fi chiocciola da Delta Center. Se vi interessa, ragazzi, lo trovate nelle storie di Instagram di EA Sports Foot. Non ancora, Franco, credo che li faranno a breve. Allora, Max, entro sul tuo. Ah no, aspetta, abbiamo Padillac che ha il pacchetto da 100 miliardi di giocatori. Cosa pensi che hanno accontanato la modalità di pacca ottenibili tramite momenti? Oggettivamente non si rinculava nessuno. Ecco perché gli hanno lì hanno appato perché stavano a fare questo. A me sembra giusto. Povera quella email. Posso immaginare, posso immaginare tutti quelli che gli mandano una mail. Perché non mi hanno appato le fantasy? Spero che quella email venga eliminata istantaneamente. Allora, signori. Con le icon doppie ci saranno SBC dedicate o si possono buttare in qualunque SBC? No, al momento non ci saranno SBC dedicate. Signori, io vi faccio una bet. Almeno due speciali speciali esclusif Sì, no. Da questo pacco da 100 giocatori. Mettate! Se Padilac School regala 50 sub in chat, ragazzi. Allora, dovete sapere che, grazie per il follo, pisciazza la sburrazza. If esclusse, if esclusse, if esclusse, no, speciale argento, no, solo le bird dei ragazzi speciali. Allora, dovete sapere che al momento Padilac ha un debito nei miei confronti di un sacco di soldi. Allora, al momento, al momento Padilac ha un, un biglietto di un concerto sulla coscienza, ha un biglietto aereo sulla coscienza, sul mio portafogli, ha una serie di, ha una serie di, 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 di giornate di alimenta, di alimenti, non le hai pagate, non le hai pagate, Padilac. Fino a prova contraria non le hai pagate. Fino a prova contraria non le hai pagate. Che ce faccio? Già ce l'ho la sub. Vabbè, raga, chiedete a Padilac se vi dà qualcosa di suo. Posso solo immaginare cosa chiedete. Ma Padilac mi manda un paypollo di 50 euro. Siamo costritti a dare ragione allo streamer e lui il capo qui. Vedi, Zichi? Vedi, uno che ne sa? Eeeh, fatta. Potrebbe prendere uno di quelli là di plastica. Allora, signori, ma ci sono 460.000 punti canale sul sì. Bravi. Eeeh, nessuno ancora, frate di Bob. Se mi pulisce una volta a casa la settimana che non si trovano. Non si trovano le... Non si trovano le... le signore delle pulizie, ma veramente. Non c'è... non c'è market su questo. nessuno vuole più pulire le case. Sono d'accordo. Viva la sporcizia. No, non è vero, non è vero. Pulite. Ne ho messo 40.000. Bravo, Gis. Per ora non betto che ho raggiunto 104.000 punti canale e mi sembra una cifra corretta da scrinnare e mettere come screensaver del computer e del moni, del telefonino da door. Ne ho già tre, me ne serve una quarta. Cazzo, fin vitti, dove cazzo abiti? Tiene una villa a 18 piani. Te la pulisco io per degli FC points. Ecco la ludopatia che esce. Signori, pacchetto da 100 giocatori, 25 bronzo rari, 35 argento rari e 40 oro rari. Sono tutte su early fans. Case vacante, vitti, lei c'ha i soldi. Guarda che non ho detto una stupitaggine, CR. Let's go. Sì, Portugão, Icciao, Bernardo Silvao. Se trovi Gullit corri nuda per strada. Ah. Ottimo. Manco doppio walkout. Quindi siamo sicuri al 100% che sotto non c'è nessuna icon. Eh. Maron, Carboni. Port. Manco un if. Vediamo, aspetta, allora, però abbiamo trovato, abbiamo, questi hanno chiesto 2284, ne abbiamo trovato solo uno. Wart. Ah, dopo Bird and Evolution. Allora, aspetta, voglio vederlo subito, fammi togliere le storie Instagram fermi tutti, aspetta. Ho bisogno di vedere a dopo Bird Day. Evolutions. Credo che sia abbastanza scarso. bene. Come l'ho messo lo tolgo dai preferiti sto scam, hai visto? Grazie mille, signorina, banni Natascia. Mi paghi per cortesia il no. O Lisi o Manuel? Ma chi cazzo è Manuel? Ah no, Manuel, metta Manuel, metta Manuel. E andiamo da Max Diello per testare questo Harit. Vado, Max Diello. Manco l'ESB si ci sta pagata, brava, esatto. Grazie, Banni, per aver fatto da test. Porch D. Cosa ci vuole dare? Dei porci o è una bestemmia? Fate l'acca. Sei pronti a Dragon's Dog, ma signori? Chi di voi l'ha preso? Se sapete che cos'è. Nananananananananana. Non vi assiemeate che Pasquale se ne va... Salutiamo Pasquale. Ma a me Adopo su Footbin esce che è 90. E ragazzi, la differenza proprio da chi vive di Evolutions da inizio del gioco sono tutte evoluzioni scadute. Vedi, se io tolgo questo, Adopo esce 90 anche qua. Solo che Adopo 90 te lo fa con la Welcome to Evolutions di inizio gioco con la Detail Oriented uscita tre mesi fa, Laika Rock uscita a Natale e Toti Centerback Prospect uscita durante i Toti con il Golden Glow Up uscito venti giorni fa. Oppure c'è un'altra 90 con la Welcome to Evolution di inizio gioco, il Triple Threat Attacker uscito durante i Tripla Minaccia, Detail Oriented i cosi radioattivi usciti venticinque mesi fa. E' vero, c'è pure Beyerin. quando esce, che cosa Harley Quinn? Quando è uscito stasera? Un Harit SBC che adesso ci andiamo a provare. Il nuovo Team of the Week. Non è detto che esca, ma c'è l'aio. Ah, quando esce Dragon's Dogma? E' venerdì. Non è che per uno devi fare tutto sto bordello con tutti. No, vabbè, no. E' vero, era per dare una spiegazione al bro. Dove sta? Ah, ecco. Se compro il gioco non riparto da zero con l'evo. Il pack 100 giocatori scam, sì. Ho iniziato a giocare da tre settimane. No, ma Friends Super, non si preoccupi. Lei è capitato nel posto giusto se vuole le evoluzioni, consigli sull'evo. Vada tranquillo. Non guardi le evoluzioni su Fruit Bean, signor Fran. Guarda le evoluzioni su Fruit.gg. Ah, molto bene, Esk. Noi viviamo nel futuro qua a Napoli. Hai trovato l'Andersar dal pacco 100 giocatori. Non lo sappiamo ancora, Andrea Scorpion. Allora, quanti di voi interessa questo Harit? La mattina gioca calcio, la sera vende il kebab. Poca roba, Dani. Com'è Harit? Benvenuti a Top of Flop, dove adesso le carte, casin'io devi farlo tu. E intanto, lascerò anche un follow per la review. 3,50 euro tortellino. Ti vado spesso da questo, lo vorrei un bel kebab. Allora, fammi mandare un bel video incredibile a Padillac, registrato adesso dalla webcam sotto la scrivania. Balodelli, no, quel Balodelli era rotto, regà, perché era un metro e novanta con 99 di dribbling. Perché scrivete A? Non so di cosa voi stiate parlando. Allora, gioca. Ah, è vero, c'è pure Blank, c'è ci facciamo le Revals, Max. c'è Blank, c'è Beyerin, c'è Harit. Allora, Open Enda. Quest. Quest. Allora. Ah, eccolo. Eccolo qui. Ci mettiamo un attimo qua. Questi giocatori con poca forza si sa già come suono. Beh, però in realtà questi qua sono quelli là, gli skiller. Sono quelli là tutto spring boost. Alla fine pull e pull, che è una card molto simile, però S-A-T-A-S. Allora, devi fare così. Tu devi essere un attimo eliminato. Mbappé. A destra. Madonna, ma che foto da rincogliorito che c'ha Blank. Ma sembra Sembra Lupin con una paralisi facciale. Vabbè. Lui può giocare Eddie? Sì. Allora, aspetta, a lui cosa gli serve? Uno di Ligan. Vediamo se abbiamo uno di Ligan da poter inserire. Ma vuole proprio così. No. Giulie. Non lo giocherò mai. Singo! Che pizza mi consigli? Margherita. Peppe. Se sei la prima volta che passi a Napoli devi prendere sempre la Margherita. Vabbè, ma in realtà io metto la Hansen. Metto la Hansen e mi metto l'allenatore della Ligan. Io non so perché, ma l'allenatore lo do, dato che io non lo cambio praticamente mai in squadra, lo do quasi per scontato. Allora, togliamo un attimo Brother Bastoni, mettiamo Van Diccone, me porto me porto Verna e chi è che sta a meno d'intesa? Ah, Bellerin. Ah. Serve uno spagnolo per Bellerin. Oppure uno di Ligan. Oppure, no, uno spagnolo, uno spagnolo. Che ci abbiamo di spagnoli? No, ho sbagliato. Cap de Vila. Sì. La Fridolaina, la Fridolaina poi vabbè, poi vediamo. Allora, dove spagnolo? Va bene, va bene, va bene così, va bene così, va bene così. A questo gli mettiamo Obra, perché tanto buttargli il fisico. Gli mettiamo Ancora perché mi scocciavo di entrare. Ah, questo qua che gli mettiamo, eh, sono d'accordo con te, Fattanz. No, Pavel, punto scantivo, ma che le le. Sì, col Miss Wax. Allora, questo bro gli mettiamo, che cazzo gli mettiamo a sto bro? Predatore. Na 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 na. Fammi vedere un po' sto coglione qua. 30k. Bello. Allora, io gli volevo mettere finalizzatore, però no, gli boosta la reattività. Quindi probabilmente gli metterò Maestro, che gli tira, gli boosta tiro, passaggio e dribbling. Mettiamogli Maestro. E, Cannoniere non c'ha senso perché c'ha 54 di forza. Eccolo qua, Regist. Isaac ha il capo per evolverlo, solo se lo usi titolare. Vedi perché gli è boost più 8 di potenza tiro, più 8 di passaggio lungo e più 8 di reattività. Questo ce lo giochiamo ATS, lui è destro. Playstyle, 0 di tiro. Però c'ha tutti quelli del dribbling, c'ha il trickster plus, che io penso che quest'anno ho fatto una volta le skill col trickster plus. Allora, Socrates, Mammetas, Patetes, allora, Harith, ce lo giochiamo qua. L2R2, brah. No, Paolo, non ancora, purtroppo. Nel caso se li dovessero fare, mentre siamo in game, magari avvisatemi che poi ce li proviamo. Buono per baggarla nel polpaccio. Momento più momento più alto della storia di Ultimate Team comunque. Il bug del trickster. Non ho TikTok. La puoi trovare anche su Instagram, Pavel. Punti e scambio tipo IG. I video la serie dei test dei giocatori li metto sempre sia su TikTok, sia su Instagram e sia su YouTube Shorts. YouTube Shorts purtroppo però c'ha il limite a 59 secondi. Tocca aprire il pick icon da solo nella stanzetta puzzolette. No, perché la regola ce lo apriamo insieme se vuoi. Mi faccio un attimo il test a riello di questo, tanto non credo che durerà tanto. E poi ci apriamo tutti i pacchi, pack, puck. C'è anche la possibilità che ci apriamo il mio pacco da 5.000. Eh? Do sta amico mio kebab? Ma da King Kong PS4 PS4 è il magico mondo degli scellerati. Arith! Bene. Eh, aspetta, non ce l'ho ancora fatto caso con Beyerin. Sì, Gian, se so o se so dimenticati o stanno un attimo posticipando. Oh, madonna, ma è gigantesco sto Beyerin. Ma dov'è finito il Beyerin nano? Eh, però 70 di forza. Guarda là. Questo se si mette una camicia a Floreale. ragazzi e per la sub storing bocca di birra sotto. Eh, puoi appoggiarlo per favore da qualche parte? Mamma, vuoi ringraziare Fabio Per gli otto mesi di sub Ciao Fabio Grazie Non so se l'hai sentito Fabio Eh lo so Ciao signora Ha una voce giovane mia mamma Sì mia mamma ha 18 anni ragazzi Mamma è giovane Sapete Ha fatto pure il programma di MTV Come si chiama Come si chiama quel programma su MTV Grazie mille comunque Fabio Per l'ottavo mese Cosa sta sto Harit La cazza è andata quella palla 16 anni incinta Bra esatto Esatto Mia mamma ha fatto quel programma Lì ragazzi Io ho però 25 anni Lei ne ha 18 Io sono il padre di mia madre Anche io sono figlio di un arcangelo Oh il loco a Cristo Mi serve TD forte tolta la ona battle A tutti serve un TD forte Zambrotta Ragazzi Vi posso dire una roba Per favore Statemi a sentire Mal che vada a buttare 20.000 credit Vi comprate Sorlot Per favore Vi comprate Sorlot E lo usate titolare Per Tre Cinque partite È forte Fabio È un animale È un animale No vabbè PS4 Non No Ragazzi abbiate pazienza Non ve lo fate specificare ogni volta Io credo che ormai PS4 Non è proprio più contemplata Nei discorsi nostri Almeno in questa chat Qui PS4 Non è mai considerata Io quando parlo di un giocatore È sempre PS5 Perché invece della review Mi hai mandato un video Di te che ti tagli le unghie incarnite Che schifo Cetriolo Melanzana Carota Banana Cetriolo Melanzana Carota Banana Cetriolo Melanzana Carota Banana Cetriolo Melanzana Carota Banana Allora Per la questione del video Mi sa che hai aperto una chat sbagliata Probabilmente è È proprio la chat con Fabio Vedi È Il ragazzo che ha appena Sabato per l'ottavo mese Credo che La chat sia quella con lui È È È È È Per quanto riguarda lo spam Dell'emote Non so perché mi vuoi proporre Un Che cos'è Un succo all'ace Però con la melanzana Mi sa che la spremuta di melanzana Non l'hanno ancora fatta Sono d'accordo Babaggial Lukaz Di Sorlot È È È una rottura di palle Incredibile Per quanto è forte Riavvia il modem Vincenzi Ui Piero Andrea Eh si upgrade Secondo me Li fanno in serata Regà Cioè li fanno tipo Allora Io me Mi gioco Mi gioco 50 centesimi 5 Ma poco sì 50 centesimi Che stacco la live E fanno gli upgrade Degli fantasy Hai valutato il sedano rapa Ma Da mangiare Gliel'ho preparata appositamente Ah volevo dirti una cosa importante Dimmi Ho trovato la mia vecchia vespa Senti come sgasan Hè un po' rincoglionita. pure funziona ok io credo che adesso Sorlot che è forte io credo che ci sia qualche cromosoma di troppo farebbe veramente ridere se mi devo giocare veramente 10 centesimi sull'upgrade delle fantasy me li gioco per 5 minuti dopo che ho staccato la live stacco la live e apparo le fantasy puoi consigliare di comprare Gullit che come hai nominato Sorlot è spuntato da un 81 o più ragazzi voi non mi credete quando io vi dico che il santus culo è vero voi siete testimoni tutta la chat lo è io credo che da quando sono usciti i birthday in chat almeno una decina di Gullit sono usciti comunque su sto canale alle 19 pare di stare all'uscita del surf fatanza io credo che lei io credo che lei alle 19 e sono contento di questo non guarda altri canali perché se qua pensi che qua sei all'uscita del surf su altri canali alle 19 è solo un test molto bene grazie mille per i vai vai continua a mandare beats vai 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 mandami i tuoi soldi grazie arit oh ora sto arit 30k di giocatori arit che c'è sta bombone dopo due mesi di sub mi hai trovato due volte r9 prime vedi preferivo sta al cert eh però ti assicuro che c'è certe altre chat delle 19 che che sono sono veramente sembra quel sembrano quegli eventi di beneficenza con tutto il rispetto parlando ovviamente sembrano quegli eventi di beneficenza per dai l'otto per mille le disabilità queste robe così boom sì stern che è questa euforia in questo canale ma è sempre così so stern allora però se devi devi bisogna bisogna pure dire una roba l'euforia sul canale è inversamente proporzionale al contenuto cioè più il contenuto è buono più siamo concentrati a fare il contenuto e quindi cazzeggiamo di meno quando c'è un contenuto di merda cazzeggiamo di più io rilappate la clip questo è il suono che faccio quando esco dalla doccia vedi basta leggere la chat sembra le chat fake delle squadre di calcio va bene ma là va bene ma là alcune di quelle persone non stanno bene con la testa d'assicuro l'altro giorno che c'è stato la settimana scorsa c'è stata una discussione non so se c'è ancora Crassman in chat Crassman c'è stato in chat due settimane fa c'è stata una discussione sul fatto che ma tipo per mezz'ora che Sabino il commentatore pronunciasse Cialanoglu Cialanolu che è la pronuncia corretta Sabino vi ricordo che è telecronista Sky e c'è stato uno che no la H è muta perché bisogna dire così qua e domani premi rivals io infatti mi sono tryhardato le rivals Fabio sono salito dalla sesta alla due in tre giorni Sabino è top Sabino a parte che io lo conosco di persona ma è simpaticissimo brava persona propria 3 win e 6 in elite e 3 di famo no no fattanza no sa chere sette winter o benzemà benzemà arit io io la volevo passare a mappella però voglio farti fare bella figura ho un milione e due vorrei ma che cazzo di esultanza è ho un milione e due vorrei vinicius aspetto prendo il thunder o il tody va bene anche l'if puoi prendere quello che vuoi tommy no fattanza no fattanza ma io la vedrò mai a giocare la la i serie a l'academy della serie a bravo blank qui potresti e funziona solo nelle rivals l'unica riserva un editor no grazie gerpyox certo paolo Ah fatta anza Non vai in motocicletta Né in moto né in bici Utilizzi solo la La macchina No no Tommy no Promosomi in più ne abbiamo Stasera tra i beats di Padilla Che è questo avversario Sì tanti Punto scatico PSN Paolo Digitando qua in chat Tra tre mesi ti nasce una fattanzina Quindi ma c'è Ah ma quindi è una fattanzina Maron fatta figlia femmina Ci vediamo tra 18 anni Non vedo l'ora Fatta Finito i beats Dove provi tutti come Schweinsteiger Eh purtroppo non l'ho ancora provato Schweinsteiger È uno dei pochi che Non ho ancora provato Fattate Spero che tu ci Ti seguirai ancora quando La figlia ti chiederà di andare Di andare Di andare in discoteca Vestita Nuda Se tra 18 anni Si utilizzeranno ancora i vestiti Hai trovato nel 3 di 85 Allora mettilo in campo Vedi che Magari Magari lo Magari ti piace Devo fare 20-0 Mi sa in cura Giusto Anzi vai 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 a ballare Vai che così meno bordello a casa Fattanza è tipo uno Se fosse nato Tipo durante Durante il periodo Degli indiani Sai no Fattanza sarebbe stato tipo Il totem guida Della tribù Quello là che Quando moriva Lo mettevano al centro Del villaggio Per 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 adorarlo Per Per far crescere i bambini Adesso invece Adesso invece viene 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 Come si dice Viene Fai balli con tamburi Vai Vai Esatto Nessuno Vede partire giornaliere Non credo Urlo del su Ma avresti probabilmente Fatto prima a fare da solo Ho a kanji bastoni Ma mi è uscito Blank Eh Toglierei a kanji Ho fatto Lesbici 100 giocatori Sto da xbox E Mi tocca Aprile nel mio salone Puzzolente da solo Vabbè capitano focche Se vuole Può stremmare anche su Twitch Dalla sua console Io la guardo Eh ma Non li sono scordati Sti upgrade Purtroppo Non so che dirvi Ah ma sto coglione Di harit C'ha il tiki daga plus Vedete una Una zattera Col fuoco Mi spingete in mare Va bene Richiesta approvata Poi Momo Buonasera Obiettivi San Patrizio Conviene fare nelle battles Sì Decisamente Grande contenuto Comunque Questa sera Domani poi esce Pure quel Quel Come si chiama Quel Grimaldo C'era troppo hype Per la Rolf Eh ma non Ma io in realtà Mi aspettavo Stamattina Di upgrade Di scherincoglioniti È un paese Di subire Massimo Un gol Esattamente Quei banditi Buonasera Ottavo Kato Salberto Non scambiabile Riototi Akanji E Frimpong Eh Togli Akanji Troppo complicato Se scudo te lo dico Ma tanto Trovelo al massimo Stash Che è Stash Quello di Delio Colors Un ragazzo Incontrata Una ragazza Meno male Che non hanno fatto Una ragazza Incontrata Un ragazzo Perché sai quante rime Con Cazzo Che uscivano Arith In realtà Mi dici qualche Mossa skill Buggata Di quelli là De L2 R2 Che tu le sai Sicuramente tutte Che bella formazione Bra Sbagliato qua Mette Eh Sarò fraga Dobbiamo aspettare Poi Se abbiamo aspettato Una settimana Un giorno in più Un giorno in meno Non ci cambia niente State forte lo stesso Che bello questo gioco Ho incontrato Due persone Che subiscono il rigore Stop e batterlo Tiro e segno Al momento in cui La palla sta a entrare Quittano Staccano la connessione Signore e signore Sembra che tu ti sia Disconnesso dall'ultima Partita online Loloz Eh mi dispiace Non ci possiamo Far nulla Spammando powershot Con Gullit Tutta la partita Ma scusa Non è meglio Spammare I I Di reagiro Così Questo cazzo Di lato Gullit Farevi anche Di so Beyerin Ma potenzialmente Sì la possiamo Fa Il problema È che sto Beyerino Lo sbloccherete Tutti Perché è il primo Giocatore del pass Alla fine è un buon Terzino Secondo me Il problema Di questi terzini Qua È che ci hanno Poca forza E avendoci poca forza Devi utilizzarlo In maniera molto Particolare Cioè una volta che vai Spalla a spalla È finita Non si appano le fantasy Ragazzi Le apperanno Nei prossimi Nelle prossime ore Tra messi Toti e CR7 Chi considera CR7 Raga CR7 Toti è uno dei giocatori Più forti del gioco Un giocatore che non ha senso Per quanto è forte Pure in game O solo nel pregame Eh Io credo Che anche in game Si Si illumini Non mi hanno mai detto Perché non vogliono dare La win Se una persona di quitta Eh ci Ti abbiamo spiegato Un sacco di volte Magari risolvono Il problema Dei quit Sul pareggio Però Ne creano un altro Perché Se tu Facendo così Crei La possibilità Che l'avversario Ti Ti faccia crescere La connessione Apposta E Nel momento In cui Ti fa crescere La connessione Apposta E Dato che Dà Magari sul pareggio Immagina che tu Batti Come batti L'avversario Ti fa crescere La connessione Poi sia sul pareggio L'uso e becca la win Perché tu hai Ti sei disconnesso E quindi Elimini un problema Che è la vittoria Del quit sul pareggio E ne crei un altro Eh Arith Controlla lo sprint Boost Mamma mia Servirebbe un AD Hansen e Gerzigno Prendi la Hansen Oppure ti fai qualche evoluzione Di questi qua Oppure ti sblocchi Coman Come fa a farti Crescere la connessione Si chiama Attacco di DOS Oppure c'è un altro C'è un altro C'è un altro C'è un altro Nome Che se c'è Saraggio in chat Sicuramente mi ricordo Che l'ha scritto Dockload Come si chiama Ehm Ti sovraccarica Il server Praticamente E ti fa Ti fa crescere Blank e figo Figo e blank E' una fusione La djb Faranno una partnership Con Dragon Ball I signori di A E a partire da FC 25 Si potranno fare Le fusioni Dei giocatori C'è sta un'animazione Tipo nel walkout Però dove fanno La fusione E tipo fai Una fusione Tra Gullit E Socrates Diventa Due metri e dieci Con le treccine E il baffetto Si si vinturicchio Straconsigliato Deve sapere il tuo EP Eh ma nel momento In cui Tu lo match Il tuo EP E' facilmentissimamente Intracciabile Voi siete Siete Ma a parte che comunque No Non necessariamente Deve saperlo Secondo me Non me ne intendo Però Non ancora Anto Ma io Da qua ci tiro Che dite No E' troppo lontano Come cazzo Si fa a fare Fuorigioco Da qui Eren D'attacco dei giocanti Bravo Esatto Non so chi sia Però Mi fido Bravo Be Golletta Il doppio passo Di Golletta Golletta Fermato Non serve sapere l'EP Si fa Si fa Ci sono i glitch Per farlo A me è successo Eh figuratevi Anni fa ragazzi Stava il glitch Deve mettere La carta argentata Sul telefonino Deve mettere La carta argentata Sul telefonino E E Fare Fare col telefonino Da hotspot Alla play Ti fai Ti facevi telefonare Adesso non funziona più Ne parlo Deve fare 18 E se robe così Te facevi telefonare E te cresciava La E' vero Mi mandassi pure il video E Te faceva cresciare La La connessione No no Guercio Devi solo abituarti Devi solo abituarti Tanto Cioè lo devi Lo devi provare Tantissime volte Poi ti verrà automatico Farlo Lo fanno già Adesso questa cosa Di prendersi La guida Non è una cosa Molto diffusa Ma questo C'ha un dribbling Pauroso Sto Arith C'è veramente Palla al piede Porca miseria E' un E' un demone Però vedi che poi Non segna E non è in grado di capire Se te caldano Le scelte coppare La rete Perché ti spendo Tutta la console Non lo so Ragazzi Non Non vi ripeto Non me ne intendo Di ste robe Non Quanto se ne inventano Per vincere le due partite Ma tu non hai idea Tu non hai idea Baia Ragazzi Io non so se voi Gocate ad altri giochi Dove c'è il pvp Dove c'è L'uno contro uno Con altri utenti Ragazzi Ma La tossicità Di Cioè I modi Non la tossicità I modi di ricercare La win Di quelli di ultimate team Di chi gioca Ad ultimate team In maniera Tra yardata Assicuro che sono Stupidi Sì Pasquale Chi gioca ad altri giochi Ragazzi Voi non avete idea Di quello che fanno Gioca di giochi Comperi Valorant LOL Pela Rainbow Six Cioè Gioca ad un po' Se è evoluto Perché già Il possedio di Marco Evoluto Come posso fare Non puoi fare nulla Purtroppo Mino Salomone Meglio Rolfo Bruno O Rolfo Gimmis C'è Rolfo Bruno Gente che gricciava Cioè io non so se voi Giocare ad altri giochi Raga ma Le cose che L'utenza di ultimate team Fa Per provare a vincere Con gli escamotage Assicuro ragazzi Che sono delle cose Da bambini I giochi RPG Ragazzi Creano dei mostri I giochi RPG PvP Creano Creano delle Ma Pokémon Raga Pokémon Cioè Quando tu Devi provare Dovevi buildare Il Pokémon Per il competitivo Raga Ma non so se avete Eseguito La settimana scorsa Che cosa è successo Durante un torneo Competitivo Di Apex Ieri sera Erano un'ottima concezione Del gioco Troppo sulla gente Fa cacare In genere Poi Il gioco varia Sì vabbè Ho giocato a NBA Per tre anni E quella community È veramente tosse Io non ho mai giocato A NBA Diablo 3 Tutti i bug Per il dupe Degli item Fin quando Fin quando Fin quando ci sono Delle meccaniche Delle meccaniche Che non Cioè se ci fossero Tipo dei glitch Delle ba Perché io i glitch Delle battles Sono gli unici Che pubblico Da sempre I glitch Delle battles Sono delle cose Che Non Che te fanno fa Niente Non te rompono Il cazzo No come Come Esperienza di gioco Le fanno fa Delle cose In maniera un po' Più veloce Arrivederci Chi si è visto Si è visto Non l'abbiamo Non ancora fatto Non sono ancora Stati a pade Pur sì Che meglio di guardare La menzione Sì Con Cannoniere Un ragazzo Scula Gullit Birthday Yes Pam Mount Time Edone E check Il paratone È un modo Per stare AFK Nelle battles No Purtroppo No Ah la cosa Di Apex Praticamente Durante un torneo Competitivo Ma Di tipo Tre giorni Fa Quattro giorni Fa Dei cheater Dicevo meglio Degli hacker Hanno Inserito All'interno Degli account Dei giocatori Dei pro Che stavano Giocando In live Su twitch I cheat A schermo Cioè Sono entrati Durante Un Un torneo E hanno Inserito Negli account Della gente Che stava Giocando In quel momento Live I cheat Sugli account Pulisic È meglio Di chiesa Centurion Sì Pulisic Come esterno Piccolo Di serie A Probabilmente È peggiore Solo di Chiesa Fantasy Comunque Forte Sto Arith Fa un cazzo Minchia Criminale Arith Non gli faccio Il cucchiaio Ma hanno svelato I cheat Che usavano I pro No 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 Stavano giocando Tutti legit Sozuen Stavano giocando Tutti in maniera Era un torneo In LAN Non so Che Non lo segua Apex Non so che torneo Fosse E un hacker Ha inserito I cheat In quel momento Ai Ai player E Ovviamente Sono dovuti Cioè Hanno dovuto Intervenire Certo Certo Andrea Ragazzi Invitatemi pure Con i pack Tutto quello Che volete Assolutamente Sì Ma magari Ce ne andiamo A aprire qualcuno Alla fine del test Sapete che Oh No Porca misera Scherzi a parte A parte la finalizzazione Di sto coglione Questo Palla al piede Voglio è una mina Ve lo giuro E non Veramente Guarda qua Analogico Analogico Vabbè Tranne Van Dijk Perché Van Dijk Analogico Skill Questo è Un cazzo Di animale E Paolo Non lo so Perché sono Su un altro Account Adesso Mo cambio Mo cambio Account E ti dico Ma credo di sì Ti è inviato A quello là Con il Goblin verde Tutto a posto Stai facendo L'Icon Oh Yeah Ma si è Refreshata È giusto Ma è l'Icon Quella Con le totai Giusto La Van Dijk Io non c'ha senso Non c'ha senso Van Dijk Non c'ha senso Io devo far vedere Che c'ha i Gullit Borde Pulisic Ma è sempre meglio Il 5 skill No Fire Fear Well Non ancora Gullit Bade Ricord Grazie Aspetta Piegati pure questo Aia Grazie Sire Ti puoi provare Con la nuova meccanica Sì Certo Non sono riuscito A dagli il pallone L'avevo fatta Prima Gironami così Tra Pop Benzema nuovo E Son Benzema nuovo Dove sta Ma c'ho troppo tempo Non serve a niente Comunque Non servevo a niente A parte che ci vuole Un sacco di tempo E un sacco di spazio Per farla Ma poi Non ti dà Non ti dà Sprint boost Non ti dà Velocità Non ti dà Niente Delle rivals Delle rivals Cosa intendevi In che senso Delle rivals Cosa intendevo Gio 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 Che buono ragazzi Sto mangiando Gli spinaci E il tonno Oh che bug Delle rivals No non c'è nessun bug Delle rivals Un ragazzo In conta Una ragazza Nananananana Pajak Mi ricordi Il link Per cortesia Può farlo Gerardo Ma è sconsigliato Secondo me Molto meglio DC Allora signori Parliamo un attimo Di questo Harriet E poi ci andiamo Ad aprire un po' Di pacchetto Sì Gerardo Assolutamente Sì mi apro Un attimo Cioè faccio un attimo Il recap Di questo Harriet E poi E poi Vi Ci andiamo a aprire Icon Pack E tutto quello Che volete Allora signori 30k di SBC 5-5 Di Ligan Classico Esterno Tutta corsa Con L1 Più corsa Super agile Si skilla In una maniera Incredibile C'ha una gigantesca Pecca Che è la finalizzazione Nonostante abbia 87 di finalizzazione Quello 81 di potenza tiro È veramente poco Sbaglia Veramente qualsiasi cosa Ma è un esterno Molto divertente Se sai skillare Perde tutti i contrasti Di fisico È una card che Per quello che costa Un 6,5 Io possiamo da Con regista Per boostare La potenza tiro La reattività È un po' Di passaggio Lo sblocchi Io no Ma forse in realtà Lo sblocco Ste card da 30k Vanno quasi sempre Sbloccate Arrivava Dilla Che arriva tutto 6,5 Se fosse uscito 8,8 Perché alla fine È divertente Secondo me Quando le card Sono divertenti Non si può mai dare Un voto Estremamente negativo Perché se ti metti A skillà Questo Non lo prendi Se ti metti A skillà Voli Lo sblocchi Io no Ah in realtà Ti perdono Forse lo sblocco Lo sblocco Lo sblocco Lo sblocco pure Però Boh Valuto un attimo Un ragazzo Incontra Una ragazza No così Ah Vabbè Sto Beyerine Come dicevo Prima Eppure Buono La corsa Ce l'ha Il body type È stato Totalmente Cambiato È molto Più grosso Non regge Contrasti di fisico Perché comunque La forza È quella Però Per essere Gratis Non è un male Come terzino Destro E si è andato Molto bene Raffi Sì è un 88 Fatto con carte A scarto Assolutamente Sì Welemon Buonasera Yap Luga Scomparsi Ah poi Blank Raga Ma sto difensore Centrale È fortissimo Non so Quanto costa Sto Blank Eh Eh Una milionata Marca troia Max È trovato Un milione E tre Di difensore Centrale Eh Regà Sto Blank È un animale Forte Forte Sto Blank Sì Forte 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 Sto Blank Eh Sì Procionazzo Aereol Un metro e novantuno Un metro e novantaddu Normale alto Cinque di debole Tutti playstyle Punto scantico PSN Gerard Eh C'ha pure il calibrato Per fare i driven Dalla difesa Novantuno di aggressività Novantaquattro lettura Novantadue intercetto Poi Blank C'ha il body type rotto Perché c'ha i gamboni Lui è il presidente Ribedite Sei presa Rai con Toti È proprio quello De Bruin È forte È forte Quel De Bruin Spese pazze Ma Zambrotta Che ne pensi Allora Andiamo un attimo Sul mio account E andiamo dai vostri Pacchettozzi Buonasera Luke Arrivo Gerardo Arrivo da voi Ho un if doppione Non scambiabile Me lo sblocco Starei Masi Ho sblocato Latti tirannesi Che obiettivo Una scheggia Quando prima R2 Vola E ha pure Cinque schede Se voglio Sì abbiamo provato Ieri sera Domenico Non era male Hai provato Cafu Zambrotta Maggiore Ti scamba Abbastanza Allora Aspetta Vado un attimo In ordine Con i vari Parti Allora Abbiamo Aliciu Polino Andrea Androggio E Milanista Aliciu G6 E Max Sei ancora in tempo Per trovarlo Ah sei tu Paolo Ok arrivo Adesso Vedemi Quando entro nel party Devi fare Avvia Shareplay L'ospite gioca al tuo posto No infatti Lollotz Più forte di Ferdinand Base Blank Ma Sì Però non vale la differenza Di prezzo Andrei Sì Blank Birday E più forte di Ferdinand Base Però Non vale la differenza Di prezzo Alla fine Ferdinand Base Quanto costa 600k Mezzo milione In più Non li vale Che mi impegnerò No ma io non lo dico Per il test Max Io lo dico Per il twack Per l'ascolatura Capito No perché Ha abbandonato il party Dice un milione Che c'è sta Maldini No due milioni Van Dyke Sempre di più Maldini Base Sempre Blank Abbiamo detto Yashin SBC Che comunque non è male Delict Fantasy Che non vale mai Nella vita C'è Maldini Icon Dynasty E poi Tutti inferiori Un milione Solo questi Parauco Birday Un milione e mezzo Non li vale mai Nella vita Giusto Yashin Bergamp Jolly Inutile I fantasy Li hanno appato No Non ancora Alux li appano Credo nella serata Di oggi Spero Spero Entro stasera Molto bene Sozen Ok perfetto Grazie mille Paola Adesso rientra in game Sì ma Tra Maldini E Ferdinand Prefer Guarda là Che bella Sta cazzo E maglietta No ma Ma ora Ma la compro Per forza Ma io non penso Bril Ma me la vado a comprare Ma me la vado a comprare E la testiamo Anche io blank Non flexo E sculata Ma il stanzo scuro Funziona anche Nelle nostre stanzette Puzzolenti È vero Signori abbiamo un icon E io adesso vi chiedo Madonna Do winco Sì molto forte Alux E meglio CC Che gli fa la doppia fase Chat io ora vi chiedo Secondo voi Esce un'icona tu o no Clown invernale Autotie Cioè o meglio Esce un'autotie Non lo so Carons Vince punto esclamativo Barra Punto esclamativo Barra C'è il tutorial Ferdinand Base Sta 280k Ok Eh lo so Lo so Carons Ne abbiamo parlato prima E allora A maggior ragione Non Non vale la pena Spendere Un milione in più Per 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 blank Rispetto a Ferdinand Base No 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 Paolo Non ti preoccupare Piero Andrea Mandami Non c'è bisogno Della richiesta d'amicizia Mandami solo il party Allora signori Eccolo là Uno Due Tre Questo è Amtoti Me la fate Uno spam Della Della emote Della Della merda La piccola Emoji Della Della cacca Guarda E' fortissimo Lolloz Altro che non è automatico Full automatico No no Perché Perché Giswazzo Ti dico Spamma la cosa Della merda E mi spammia Le emoti Dei cicciogamer Povero ciccogamer Povero ciccogamer Giustissimo Ma perché Dai Poverello Mi vorrei mangiare il suo panino Signor Paolo Brillano in game Alli ciupollino Io la ringrazio Andiamo da Andrea Due mila Ventimila Cinquecento Quarantatré Due dici tra Buongiorno Salib e Van Dijk Buongiorno E Van Dijk In serata Cla Allora io sono Dicevo prima Entro Mi gioco Che entro Dieci minuti Dalla Da quando stacco La live Appano le card Ho questa sensazione Allora Vediamo qua Andrea Cosa ci Andrea no Sì Andrea cosa ci Ci prepara Un pacchetto Argento Grazie ancora A Paolone Prima Per l'aiconona Sì sì Ma me la vado a comprare Non so sul mio account Un momento Così la Rolfo La proviamo domani Ma volevo provare stasera Mannaggia Ai padri dei turchi Vado la pena comprare In Bappetodi Sempre Pantozza Non ho capito Se è vero Che mettendo i bronzi In panca Si possono trovare Giardini un po' più scarsi No Massimino Non si può Non funziona più Così da FIFA 17 Massimino L'overall di squadra Non in influenza Del matchmaking Ah c'ha i pick Sì Federico Oh let's go Faccio vigilia Con voi Io in realtà Stavo aspettando Un messaggio Che mi dice Oh Felipe Anderson Che mi dice Stasera andiamo a giocare A pallone Anche se a questo punto Essendo le 8 Non credo che Si sia organizzato Più niente Ginter E ma un bel picchettino 85 dove c'è troppa Gullit Eh? No Oberdorf Bello Però Dal 2082 Ci sarà La magia Bene No Salve Red Purtroppo non ancora Bene Però clean Questo pacchetto Senza un doppione Senza niente Bene 87 86 85 84 Perfetto Allora signora Andrea Io la ringrazio Andiamo da And Joe Guarda chi c'è Il nostro amico Edegrad Speriamo Speriamo non si scordino Come Chilwell Boh Chi lo sa Raga Lo scopriremo solo Vivendo Voglio vedere un attimo Su Twitter Che dicono Sta banga di Sta banda di Rincoglioniti Dei Twitter Ecco Che cosa potevano di Cioè Questo è proprio Capito È proprio Cioè È proprio La definizione Perfetta Di quello Che Sta accadendo Dragon's Dogma Dragon's Dogma È il most vital RPG Since Elden Ring Maroc Come sono contento Di giocarlo Questo Dragon's Dogma Anyone Get Anything In The 100 Player SBC I got 100 Fodder Top 10 Ragazzo Sto zambrotta Lo desidero Incredibilmente Loll Ma scusami Ma Ma Non se Ma se Può già Giocare Allora Sto Dragon's Dogma Eh lo so Baldur's Gate Allora ho fatto Un errore Io ho fatto E devi sapere Che Allora io Non ho Iniziato Quel gioco Non ho comprato Quel gioco Quando è uscito E devi sapere Che io Quando Non lo so Bayek Non lo so Devi sapere Che io Quando compro Giochi Dopo Cioè Non compro Giochi Dopo che escono Soprattutto Questi qua Così Perché Mi triggero Perché Non c'è Quell'hype Del gioco Iniziale Non c'è Quell'hype Del scoprire Cose nuove Già c'è Tutto online Capito Mi rompo le palle I giochi Mi li devo giocare Al day one Che parto Allo stesso livello Con tutti quanti Elden Ring Non l'ho giocato Anche se mi piace Tantissimo Perché quando usci Non ebbi il tempo Di giocarmelo Purtroppo Non lo so se So Dragon's Dog Ma Penso che Padilla Quello porti Dragon's Dog Niente app Non ancora Rombody Love Baldur's Gate Ogni run È diversa Non lo so Raga Devo vedere Il tempo Raga io ho Veramente poco tempo Per giocare Arrivo Arrivo Alessio Arrivo su Devi aspettare Cinque minuti Però Alessio Ogni missione È un parto Non lo so Bagu può fare Content con un gioco Così Aspettando Rise of Thrones Ma quello è Dopodomani Domani Giusto Guardi Sgate È folle Per vedere Tutto il gioco Non bastano Cinque run Io non Non posso Gioca Io non posso Gioca A un gioco Del genere Non c'ho Non c'ho Tempo per giocare Football Manager Che è uno Dei miei giochi Preferiti Che è una cazzata Fondamentalmente Rispetto a A sti giochi RPG così Figura che a giocare Un gioco dove Servono cinque run In rituolo Meglio esterno Che punta sola D'entrambe le cose Ogni dialogo E ogni Interazione È diversa A seconda di ogni cosa Che fai La sapevo sta roba Che bello Mi piacciono troppo I giochi così Paura di stancare Ma tutti i giochi Stancano adesso Bayek Non c'è neanche Un gioco Che non stanchi Al momento Nessun gioco Al momento Ti permette Di avere Una longevità Che avevano giochi Tra i quattro Cinque anni fa Allora signora Abbiamo un Icon Tuono Clown Invernali E Totai Io dico sempre Ormai i giochi Durano Una settimana Dieci giorni Quindici giorni Infatti L'unico gioco Che al momento Mi sento di dire Che non ha perso Hype È Hell Divers Perché? Perché c'è un sistema Live Service Cioè che Ogni minuto Ogni minuto Gli sviluppatori Cambiano qualcosa Ogni giorno Gli sviluppatori Cambiano Ogni giorno GTA alla fine Si sono scocciati Hell Divers E Gesù Ha questo qua E soprattutto È un gioco Che Ogni partita Che fate È diversa Vabbè ma FC FC gioca Molto sull'abitudine E sulla FOMO Sulla Sulla Fear of Missing Out Sul Perciò funziona Molto bene Però E poi anche Sulla questione Che ogni giorno C'è Voi o non voi C'è qualcosa Di nuovo Sul gioco Su FC Di Anio Musiala Musiala Allora signori Avriamoci quest'Icon Let's go Mamma mia Devastante In serata Alexander E vediamo Carons Vediamo I giochi As a service Hanno rotto Il cazzo In che senso I giochi Con live service Sono il futuro Del videogioco Fatta La scuola La carriera online Già è Presente Nel gioco Si chiama Ultimate Team Dove butto 13 18 A tre doppioni Infatti Arith Anche a me Battaglia Non sono mai Piaciuti In realtà Quel Bergam Se lo trovo Per strada Lo metto Sotto Sul GTA Asperto Gerardo Bergam Si evolve Vai Vai Io sto fondendo Football Manager Che Vabbè Ando giù Le lascio Scegliere A lei E la ringrazio Per questo Incredibile Contenuto E andiamo Da Milanista Jerry Grazie Quanti tifosi Del Milan Ci abbiamo In chat Eh lo so Carons Ma purtroppo Ogni videogioco È così Ogni gioco Ogni Ogni Contenuto Al mondo Che ha il PVP C'ha questa modalità Al momento Difatti Helldivers È l'unico Gioco Che non ha il PVP Non ha il PVP È solo PVE Ed è Tutto Coop Tutto Coop E si Sprona Alla Cooperazione Cioè tu Non puoi fare Determinare Cose Se vai Contro La tua Squadra Molto Bene Gisua Escono Mozza Ah ho capito Ho capito Sì vabbè Ma intanto Non sarà mai più Un gioco Non uscirà mai più Un gioco Finito L'ho letto L'ho letto Proprio l'altro Ieri Non mi ricordo Ho visto Un video Poi ho letto L'articolo Che ormai I videogiochi Devono essere Sempre considerati Dalle case Sviluppatrici Come dei Prequel Con necessità Di DLC E sequel Perché il primo Gioco Andrà sempre In perdita Perché il primo Gioco Ormai richiede Un costo di sviluppo Talmente alto Per modelli 3D Animazioni Scenari Maga mettici Vuoi le animazioni Delle armi Tutte ste robe così E ci spendi un botto Il primo Va sempre in perdita E quindi Devi fare Per forza O le microtransazioni O le Dei DLC O dei sequel Cioè God of War 1 Per dire Prendiamo esempio Che non è Nello specifico Così God of War 1 Va sempre in perdita Perché Devi fare Tutte le animazioni Tutti i disegni Tutti i doppiaggi Tutte le linee di dialogo Tutte le cose così Il secondo Il terzo E il quarto Poi magari Vai a riciclare tutto Quindi se il primo Spendi un milione Il secondo E guadagni 500.000 Il secondo Spendi 100 E guadagni Due milioni Capito? I soldi si fanno Con gli abbonamenti Si son pass E micro transazioni Esatto GTA 6 Vabbè Cevano due anni Andre I dubbi sono Che ho trovato Carlos Non scambiabile E Frimpong Scambiabile Gioco con Davis E E Frimpong Non mi fa tanto Impazzire Può fare il TD Siccome Riva Kanji Mi fanno impazzire Può farlo il TD Ma non è Non è Non è un top Sotto sto punto di vista Questo c'ha pure 4-5 Volendo Lo può fare Non è un top Perché Non è Non ce l'ha Quella cosa Per fare il terzino Però provalo Magari ti piace Va bene Valerak Senza fretta Ciao Sabersa Mi sono dimenticato Il gioco Diablo Gioco incompleto Come pochi Quello per esempio È uno di quei giochi A me piace tanto Diablo Non l'ho giocato ancora Quest'anno Cioè quest'anno Non l'ho giocato E non credo che lo giocherò mai Non lo so Aldo È possibile Oh Triple E Cioè Triple ho giocato Le prendo un if Ho l'89 Gerardo Alisson Ok Trovo morto dopo due mesi Diablo Che peccato Allora signori Next icon Let's go Motore Da wenko Diablo più grosso In colato Alla mia vita Che è meglio Tra uberdorf E Ugarte Ma sai che ti dico Ugarte Massimo Lasciato morire Della casa creatrice Anzi scula Ma se icon Sono proprio uno scam Regà Mamma mia Ste icon Porca miseria Non ho capito Motore Drogba Sì anche io Prenderei Drogba Drogba Sempre Meravigliosamente Incredibilmente Drogba Hai trovato Ribéry E check Eh beh Prende Ribéry Signor Gerardo Io la ringrazio Per questo Contenuto E andiamo da Per Andrea Per la Budejas La devi comprare Ma compra La Gerardo Stiamo a un altro Possa Ma FIFA 25 Quando devo comprare Sti giocatori Provateli Vada Gerardo Spenda Casci Le sordi Grazie per la sub Grazie per la sub Grazie mille Fab Per il ventiduesimo Mese Bentornato Grazie mille Grazie mille Blizzard Ormai sta al bar Ma non doveva essere Stata acquisita Da Da Microsoft Tre mesi Già si vale il 25 E L'ho presa 4 e 40 E devo dire Che nella mia Divisione Fa ancora differenza Molto precisa Ma la La Budejas Winter Dici Grazie ancora Fabiolone Bentornato Le punte E punte Scatico Gruppi Non ho la valida Idea di Graff Attaccanti Prendere con 300k Sì Rufus Perché purtroppo 300k Su questo gioco Sono Niente Soprattutto Per gli attaccanti Ma Corona Sei una card Da 30k Icon Mi sembrano tutti Scat Ma perché lo sono Si era tutto rallentato Per l'antitrust Mamma mia Che palle Ste Ste cose formali Mamma mia Ma lo sai Che Ho visto Che le Sony Xbox Stanno Vietando Alle case Produttrici Di mettere Il Multiplayer Locale Sui videogiochi Il nuovo Dragon Ball Sparking Zero Che uscirà Non avrà Il Supporto Locale Perché Le case Produttrici Non gli permettono Di inserirlo Prendi Crespo Mettono Nella Evo Sono d'accordo Con Lollots Buono Dai Sì Prenderei Muller Ragazzi Questo è Molto Sottovalutato Questo Yogurtino Al cioccolato È Molto Molto Sottovalutato Se spammi Tiri a giro Questo qua Considerando Che questo Considerate Che questo è uscito A novembre Ragazzi A novembre Ci hanno fatto Uscire Un giocatore Con 99 Di finalizzazione La cosa Più bella Dei videogiochi Quando viene A trovarti Un amico E passi La serata A cazzeggiare La schermo Condiviso Il problema È che Quanta gente C'ha ancora Bisogno Del multiplayer Cioè Prima Se io Avevo la console Ero l'unico Della mia classe Ad averla Mo adesso Se non c'ho la console Sono l'unico Della scuola Che non ce l'ha Grazie a lei Signora Andrea Nella mia Caperetta Puzzolente Ho trovato Yashino Giagang E Varanna Doverai inserire Al posto Di chi Provatelo Al posto Di Varane Italian boy Allora Spendere 5 milioni E mezzo Per Zidane O prendo Il dinastia 2 e mezzo Sostituto 92 Sblocca Di Matt Sblocca Di Socrates Sblocca Stai Sblocca 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 Un Sblocca Per c'ho la PS1 qua c'ho la PS2 a fianco c'ho la PS3 sul mobile perché è troppo grande c'ho la PS4 nell'altra stanza ancora collegata c'ho la PS5 c'ho 2, 5 qua no no non vendere niente no ma che 200 euro andrei voglio fare il boom nel 2014 andavo dal mio unico amico che aveva il Commodore e dovevo aspettare mentre caricavo il gioco a 100 e nel frattempo giocavo a Subuteo bombe winning 11 ha detto uno che la Rolf è 92 in game cazzata ma ne vediamo è possibile eh raga quello in qualsiasi momento potrebbero potrebbero apparle ste card PS3 data in permuta per la 4 la 6 è in arrivo raga ce l'ho nel garage eh no non sono stati fatti gli upgrade sì raga preferite magari risparmiare sempre un po' di più qualche mese in più per per comprarvi la console piuttosto che dare indietro la vecchia e dare per la nuova in sera tale vabbè ma ormai vai a casa figurati la prima xbox con la modifica con HD con oltre 100 giochi sopra purtroppo non si abbia più no allora let's go allora vediamo dopo aver trovato R9 e Mbappetoti vediamo il nostro amico Alessio cosa vuole cosa trova un ragazzo scusa un'icona questo è Stochkov bene un sapato mi fa morire ogni volta è bastante la PS1 con la modifica l'avendo ancora funzionante qualcuno la vuole scambio con PS Portal io ce l'ho la PS Portal però anche la PS1 senza modifica che è rarissimo secondo me funzionante una poca roba Aldo di res wow e dopo dipende dai tuoi dai tuoi dai tuoi come si dice dalle tue esigenze io per esempio l'ho presa perché mi fa male la schiena a stare tutto il giorno sulla sulla sedia e sto giocando molto spesso dal dal letto invece di tenere la tv a distanza il monitor a distanza tengo il tengo il diciamo le cose così e arrivederci sì devi avere una buona connessione oh wow scolz vale la pena prendere la portal se posso giocare la vuole pure di casa sì però dipende dalla connessione considerate che se c'è gioco io io faccio 14 sulla 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 portal prendo i time ed mi abituo al gameplay ma se c'è gioca un caso al player che a stento fa 11 non non c'ha fa fatti picco 81 o più vedete tra cangio e bastoni ho fatto bastoni giuseppe a cangio mi sembra molto più forte di bastoni esattamente giuseppe proprio per quello dobbiamo fare bastoni perché così bastoni lo fai più forte dato che a cangio è già più forte e rimane più forte c'è il cane che sta abbaiando grazie a lei signor Alessio a casa avere la fibra in un albergo avere la classica connessione 300 mega non te lo so dire Everest perché io la provo da casa la proverò penso online cioè fuori da casa la proverò per la prima volta credo quando andrò alle finali della i serie A che me la porto e vedo un attimo come va la situazione il cane dentro con la museruola no ma in questi giorni in questi giorni ci andrò a parlare con la signora perché fatti chiara amicizia lunga io ho un'altra un'altra estate ho un'altra stagione da mo che escono le belle giornate fino ad agosto settembre ottobre non ce la faccio facciarmi ogni giorno dire il cane il cane il cane non ce la posso fare quindi fatti chiara amicizia lunga io ti mando il WWF a casa ti mando la protezione animali ti mando i carabinieri ti mando quello che cazzo ti mando l'esercito a casa però non ce la posso fare si Andrew c'era tutte quante io ho una 2 gigabit e mezzo fast web in LAN quello è il modem questa scatoletta qua che me la vedete in penombra questo è il modem in realtà si vede pure il cavo passa il cavo e qua sta la play qua esattamente dietro la cam contro che rende mi sarebbe voluto Clark ah c'è sta Valdi in tutte le versioni no vabbè c'è c'ho la c'ho la PS1 classica c'ho la PS2 slim c'ho la 3 slim non c'ho la fat c'ho la 4 slim non ho la pro e c'ho una PS5 di prima generazione e una PS5 di seconda generazione ma non prenderò quella la nuova e se esce la 5 pro prenderò la pro sì Marco adesso esce anche il video i pompieri salvano i gattini sugli alberi e l'esercito ai cani devrò chiamare un esercito specifico nel caso Maria tipo uno del Medio Oriente allora signor Mazzino mi dica un nome vada caro mi invidi pure punto scadigo PSN no non si sa nulla ma in questi giorni stanno uscendo delle dei leak ma lo sai che a me leak comunque non qualsiasi ambito non mi fanno impazzire una una settimana Cerbero un mese comunque bene o male tre settimane Marano si gioca Godo vado a giocare vado a giocare a calcetto Matteo Stoti così vendo il mio scambiabile ah va bene eccolo eh non l'hanno ancora appare The Major The Mayor ui orsacchiotto buonasera vuoi sapere una delle vere offerte che offerte Giovi 22 musella Godo overall ma prenderei Casillas guarda che Casillas non è male quest'anno eh soprattutto post patch molto bene molto bene Ayashin provatelo Mazzi provatelo vale perché secondo me questo Mazzi Mazzi eh questo Mazzi Mazzi cazzo ma che ho detto questo Casillas ti può dare belle gioie ah ma questi sono per gli obiettivi credo eh eh c'è il comando in chat guarda Kenlia Bentancur eccolo qua eh sì sì ma non mai ricordavolo sai Ale perdonami meglio Harit o Rashford Rashford allora Ale la ringrazio gentilischi Mosk eh andiamo da Carons aspetta non so se aveva sentito eh dove sta mi sono perso il messaggio di Cerbero non so se avevi sentito Cerbero ah c'è Socrates apposta e la Sawa bravo e Volvo lui e Correa che mi sembrano due belve sì però aspettare qualche altro giorno qualche altro giorno avevo dato la PS2 da GameStop più 10 giochi a caso ci ricordavo di cercarlo da amici perché non le avevo avevo aggiunto 50 euro e ho preso l'Xbox 360 mi è costato più PES 70 euro sono l'errore 4 mamma mia Giovi è preso non un cazzo un culo un palo di quelli là delle paleoliche non so se hai mai visto una pala eolica è umile Ronaldo vabbè facile Carons quelle non le ho provate no non servono a niente Easy Palazone vabbè ma lei fa un errore vero qua Carons lei si presenta con uno spagnolo pelato al fianco di un Icon con uno spagnolo pelato è fortunato che non le può uscire Puyol ma qua le esce Ierro pelato come Ronaldo però Ronaldo era spagnolo era brasiliano Xbox 360 e ma perché ti ho detto Giovi dare a parte i giochi fisici mai 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 portarli a un GameStop mai ma poi le console regà mai dare le console fisiche all'interno di una di un di una permuta a ste robe così c'era davvero ieri ma ormai è facile prenderei l'Aldrup comunque feed su sonno vale quella cifra allora è molto forte Marco ma non vale quella cifra se hai bisogno di sonno fatti la evo Marco fai di l'Aldrup let's go it's me l'Aldrup la mia 360 è come modifica e io per esempio le Xbox mi pento di non averle molto bene signor Carons io la ringrazio Mariano ormai ha trovato veramente un posto sicuro dove divertirsi in questo canale allora signore aspetta devo andare a fare una cosa prima di staccare prima di staccare la live devo andare a fare una cosa importante grazie a lei signor Carons con Eusebio e Socrates metteressi sonno Benzema Benzema in realtà farei sonno Benzema e Socrates Eusebio è finito c'era solo una buona finalizzazione un ragazzo incontra una ragazza Leao è quasi a 10k per adesso non rientra nessuna Evo credo che stia cappando per SBC lei e Padillac mi avete stregato mamma mia che schifo Maria è in serata Davide credo si Carons alla fine costa 20k quell'Aldrup signori it's time to do it poi i crediti papapaa ma com'è ma che cazzo è uscito qua sotto l'Aldrup non è male se spammi cross però ma c'è di meglio ma per 30k bomber ricanosce bomber genio non è non è un top però non è nemmeno non è nemmeno una ciofe cioè è una rosa 83 raga ma strolli questo è questo è l'alieno quello di è l'alieno di io sono leggenda agente 47 in mutande allora fammi andare un attimo a sistemare qua dove stanno club ok maia maia fofforescente maia bianca maia fofforescente maia bianca scivola sulle ginocchia minna nanna scivola sulle ginocchia dorato salto all'indietro oi 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 vedi a dopo con questa maia come scorpione ui 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 passeggiata passeggiata decisamente ho fatto due pic ho trovato sei winter ah io ora me la voglio andare a fare che devo giocare alle ah vabbè ce la faccio dai me vado a giocare una qualifica ne ho trovati diversi contro i loudroop ci sta allora this is the team allora scommettiamo una roba raga ma me gioco sto match per provare la maglietta per vedere un po' la maglietta come ma ci guardiamo pure la intro vediamo vediamo come sono alle 9 io stacco alle 9 fanno gli apocriti ma com'è moore questo c'ha bobby moore aghi morgan ma com'è bobby moore ah no ma non la fanno più l'entrata no vabbè raga ma questa se ma questa se illumina guarda là la maglia è illuminata raga c'ha la sciordata di c'ha la sgommata di di fofforescente ah bello quindi questa non sono costretto più ad utilizzare tutti i giocatori posso utilizzare anche i giocatori dell'africa perché così almeno sono illuminati guarda là ma è troppo bella voglio segnalazione schiattola basta bravo doppio passo arrivederci come si fa la ballerina credo tu ti debba iscrivervi a un corso di danza alex bene 45k no questa questa non serve per l'esperienza oh l'esultanza chi te biva ma perché non perché non perché non perché non perché non matchatela il mio il mio il mio senso dell'umorismo non lo so come si fa ma questa non credo sia la ballerina questo è e non lo so come si fa purtroppo non sono esperto di esultanze ti devo dire la verità 21 e 30 ai semafori marron godo per essere educato ti ha detto chi te biva e non chi te a morte ma guarda che forse chi te biva ma io non ci ho mai dato conto a ste robe va bene comunque meno male che questo mi ha quittato sul 2 a 0 non è che c'è tutta sta grande voglia di ecco allora devo farmi sto falcao raga padelac devo fare il mio falcao devo fare falcao sul mio account devi giocare 8 devi vincere 8 battles no 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 stasera non mi intossico perché abbiamo fatto abbiamo fatto squadre abbiamo fatto i nostri i nostri migliori contro 5 migliori di un altro di un altro gruppo quindi stasera stasera tryhard stasera vado a tryhardare perché il doppio passo non mi viene ogni tanto devi farla scrivere l'asse cosa sbaglio il doppio passo guarda il doppio passo è una è un movimento di analogico dolce mentre l'elastico è un movimento di analogico più secco la differenza è la differenza questo è il doppio passo e questo è l'elastico no vabbè non te preoccupare me ne faccio vai tranquillo 7 gol con dei giocatori colombiani i giocatori colombiani come faccio a segnare dei giocatori che stanno tutti quanti col naso per terra comunque devi usare i grip le skill si fanno meglio quando ti mando la custodia ma non ti preoccupare ma vai tranquillo ma io i grip non li ho mai usati perché alla fine io non è che pretendo troppo da da stibro gentilmente puoi dirmi come iniziare a fare i crediti certo Pasquale allora ti consiglio di mettere il follow a john puttuniverse a questo canale qui a questo canale qui ok che ti faccio vedere Pasquale è questo signore qua no vattenza mi sa che le clerche non faccia compravendita vedo in serata fuori per la catch guarda se andate qua su classifiche poi andate su profitti mercato top 100 mondiali questo signore qua il numero 2 Pasquale è questo signore qua guarda stream tutti i giorni alle 10 del mattino e il primo è un suo abbonato no stai stai con la vpn non lo so ma si figuri Pasquale guardi il 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 canale è questo questo che ti ho appena scritto in chat è incredibile come tu abbia un nickname troll per ogni cosa bassoni era 90 sto facendo la evo perché è tornato 89 eh magari si figuri Pasquale a disposizione bello mandami screen su psn un metodo facile per prendere i pacchetti è giocare Pasquale quell'attaccante che è consigliato sorlot stanno facendo un casino loro le grafiche e gli app che senso da chi è la stazocco si 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 sorlot assolutamente si bomber bomber droppo vergognoso un ragazzo incontra una ragazza ma io non ce l'ho le 84 per fare sto pic di merda no non ce l'ho vado a fare un attimo questo harit che non servirà a niente magari lo butto in qualche evoluzione tra 18 anni come quel sulè no ma cazzo lo faccio a fare sto coglione non serve a niente allora c'è butto ma sì ma che cazzo mi frega buttiamoci di questi ma che me frega ma come si chiamava quella na 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 eccola qua sì infatti salve 2082 è una sola no no mica una un popular opinion è una super popular opinion ho tre pagine 90 e poi le 83 beh da te che c'hai le pagine 90 mi butto un'altra di queste e forse un altro paio di 83 ce la dovremmo fare no mi sa che mi tocca mettere un 84 cioè un 86 l'app più attiva lui non è arrivato ma è perché è sempre così e K dobbiamo solo aspettare purtroppo stanno stanno tardando un po' non si sa per quale motivo ma questo è sempre 83 metto 85 siamo a 84 vabbè mo compro un 85 dai frega un cazzo tra l'altro mi sto pisciando addosso come dicono qua no no che sto a fare no domani si appa no è possibile anche in serata K Omar secondo me secondo me avverranno in nottata secondo me stanotte li stanotte li fanno tipo alle alle 2 alle 3 a mezzanotte boh chi lo sa qua ogni volta è random ste robe settimane due settimane fa li fecero alle li fecero alle alle 3 del pomeriggio poi alle 5 e mo boh sì Lorenz eh lo so Bayek sì 100% mo all'evento mo stacco lo dott'ho detto eh mo stacco e partono gli upgrade 100% 100% madonna devo pubblicare sto video mi rompo proprio le palle mi credi molto forte Alessandro beh questo è il mio picco 85 benissimo a mezzanotte come le showdown potenzialmente sì va bene chattarella bella uh steve caren vi auguro una buona serata vi pubblico un attimo il video di sto coglione di harit poi mi preparo sono d'accordo con te fatta già avevo adocchiato vado a giocarmi una bella partita a calcetto stamattina palestra calcetto sono proprio un atleta signori grazie ancora per il la compagnia grazie a maxediello per il testing grazie mille ai mods prima ci arrivo lucio e maldini li ho venduti li ho messo vabbè sono come ciao e buongiorno salutare bravissima buongiorno e bastoni fatto bene assolutamente sì cyber sub eh scusami assolutamente sì Alessandro signori buona serata at tomorrow ciao o domani prendi rivals no non c'è credo no non c'è credo fatta no non c'è credo veramente a padarolfo no no scherzo ciao no ma devo andare a controllare no non c'è credo non c'è credo no non c'è posso credere 100% no ok no 100% mo stacco 5 minuti e le appano ricordate 20 e 55 5 minuti alle 9 le appano 100% ciao 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 ciao